ecco la che salta, ecco la che salta, è una guglia, è laggiù in fondo bellissima guglia, ci sta sbobinando il mulinello deve essere un bel pesce un gran bel pesce questo qua a rischio di ingarbugliare tutto dobbiamo per forza far così perché stiamo finendo il filo situazione complicatissima eccola che arriva, che pesce bellissima grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti